Era scomparso nel nulla due giorni fa sui monti del Bormiese, poi oggi a metà mattina il giallo ha avuto il suo epilogo tragico, drammatico. Il corpo senza vita del turista tedesco di cui saranno perse le tracce dal lunedì è stato ritrovato da un pastore che accudiva le sue bestie in località Grotosio, nel comune di Val di Sotto. La salma era distesa fuori dalle piste battute, in una zona frequentata di scialpinisti, a circa 1600 metri di quota. Lo sfortunato turista, un 74enne che da tanti anni trascorre le sue vacanze a Bormio, si era tolto gli sci, sono stati trovati distanti dal corpo. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, potrebbe trattarsi di un malore, ma il quadro sarà più chiaro al termine della ricognizione cadaverica in programma per domani. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria del Morelli di Sondalo. L'allarme era scattato lunedì pomeriggio, quando gli amici hanno deciso di sporgere denuncia per il mancato rientro in albergo del 74enne. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, le ricerche hanno visto impegnati i volontari del soccorso alpino delle stazioni di Bormio-Valfurva, i militari del SAGF, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato in servizio nella magnifica terra, i carabinieri di Bormio che conducono le indagini sull'accaduto. Da Malpense è anche decollato l'elicottero dei vigili del fuoco che ha effettuato alcuni sorvoli della zona interessata alle ricerche. Poi poco prima delle 11, sulle pendici del Monte Clus, il ritrovamento. È ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Il 74enne era impegnato in una lunga escursione sci ai piedi, probabilmente ha perso l'orientamento e forse dopo aver tolto gli sci ha tentato di raggiungere alcune baite che si trovano in zona per trovare un riparo o chiedere aiuto, ma i suoi sforzi purtroppo sono stati vani.